Vi porto un po' di mare dato che da lì arrivo e cercherò di portare un grande messaggio di interdipendenza proprio fra terra e mare, fra persone, fra esseri senzienti che ci sono anche sotto questa grande coperta blu che ci dà una possibilità, ci regola la temperatura terrestre. Ma è una scoperta quando noi guardiamo il nostro pianeta dallo spazio e scopriamo che a sette decimi di blu, quindi potremmo quasi chiamarlo, se fossimo degli extraterrestri, un pianeta mare, un pianeta blu. E oltre a regolarci la temperatura ci dà l'ossigeno che respiriamo, cioè due dei tre respiri che faremo adesso arrivano proprio dal mare tramite la fotosintesi che è la stessa che arriva dalle grandi foreste ma da un altro elemento, un microrganismo, si chiama fitoplancton, grazie. Grazie.